Caro Sala, buongiorno, non le piace andare in televisione a lei? L'unico sindaco che non venne qui il giorno dopo il voto, che non venne ad esultare? Lo sai che io vado pochissimo in televisione, non pretendo che sia giusto, ma è il mio modello, dai. Sala esulta lavorando, ognuno esulta a modo suo. Mettiamola così. Allora Sala, lei mi deve spiegare un po' la sua metamorfosi, perché lei l'altra volta, io mi ricordo, ero qui anche l'altra volta, raccontavo la corsa sindaco, veniva a Parisi a dire ma Sala tanto è di destra, pure lui, insomma, sembrava un po' un infiltrato a sinistra. Oggi è diventato il campione del centrosinistra che vince, tra l'altro con un modello differente da tutto il resto d'Italia. Mica poco, che è successo? No, ci sono dei temi che sono temi che possiamo considerare un po' più di sinistra. i diritti, l'ambiente, la gestione dell'immigrazione, che io cerco di rappresentare con il buon senso. Però il tema è un po' diverso, anche cos'è la destra oggi. E qua non voglio dare lezioni a nessuno, ma è evidente, come si diceva prima, parte degli elettori naturalmente di destra hanno votato per me. Perché? Secondo me perché oggi quando io penso al centrodestra in realtà vedo la destra, cioè la destra è ampiamente rappresentata. Cosa non è rappresentata con chiarezza? Il pensiero conservatore, un centrodestra moderato. Ecco, in quelli hanno votato, in tanti per me. Feltri è ancora collegato, immagino. Eh no, Feltri a mezzogiorno sparisce come cenarentola. Che li vuol dire? Gli lo porto io il messaggio? Dica, dica. No, il punto è, noi abbiamo fatto l'apertura del Consiglio Comunale, Feltri è rimasto un po' poi, non so se verrà a fare o se anche... Si annoiava, si annoiava, glielo dico io, si annoiava. Esatto, e se ne è andato, no? Ma i rappresentanti di questa destra hanno ricominciato come se nulla fosse successo, no? Provocazioni, negare l'evidenza del Milano che vuole partire, un modello negativo. Io probabilmente cinque anni fa un po' me la prendevo anche. Adesso mi scivola via come l'acqua corrente. Probabilmente fanno il mio gioco però, perché oggi la gente vuole un pensiero positivo in assoluto, ma vuole una prospettiva di sviluppo, non vuole... Dice, sale, è cambiato il tempo, è cambiata l'epoca. Però invece la...